Buongiorno e benvenuti a questa lezione in cui parleremo di meccanismi di autenticazione. Quando andiamo a parlare di autenticazione, prima di tutto cerchiamo di capire cos'è quello che effettivamente ci serve e andiamo a vedere come implementare un meccanismo che ci consenta di far accedere ai dati che vengono forniti alla nostra applicazione solamente a chi desideriamo che abbia accesso a questi dati. Parleremo brevemente di sessione HTTP e poi parleremo di come andare a realizzare un meccanismo di accesso alle API che fondamentalmente sono ciò che è da proteggere dal punto di vista del funzionamento della nostra applicazione usando uno specifico approccio, uno tra i tanti che sono a disposizione, appunto basato su questo meccanismo cosiddetto JVT, JSON Web Token e infine concluderemo andando a vedere come è possibile integrare tutto ciò in React dal lato del client e in Express dall'alto del server perché ovviamente è un meccanismo che deve coinvolgere principalmente la parte server. Prima di iniziare il discorso riguardante come realizzare dei meccanismi di protezione cerchiamo di fare una chiarezza su un concetto importante che è quello della distinzione tra autenticazione e autorizzazione. Il meccanismo di autenticazione è ciò che fa sì che riusciamo a riconoscere l'utente e quindi possiamo capire che chi si vuole autenticare un certo utente tramite tipicamente un meccanismo basato su username e password o qualcosa di questo tipo. Quindi di fatto andiamo a verificare l'identità di chi vuole farsi verificare. Questo ha molti vantaggi perché nella pratica quando usiamo un'applicazione web sostanzialmente la scriviamo in modo che sia utilizzabile da più utenti e nel momento in cui dobbiamo rendere disponibili informazioni private solamente ad un certo utente piuttosto che una user experience personalizzata quindi con i suoi settings, tutte le sue impostazioni eccetera abbiamo bisogno di conoscere chi utilizza l'applicazione e quell'utente e quindi di verificarne in qualche maniera l'identità. Questo è un discorso nel caso più generale separato dal meccanismo di autorizzazione che invece dice che nel momento in cui conosciamo l'identità di chi utilizza la nostra applicazione dobbiamo decidere a quali risorse ha il permesso di accedere quindi tipicamente i diritti di autorizzazione forniti a chi utilizza l'applicazione dipendono dal modo con il quale ci si è autenticati anche per esempio per la stessa persona se si è autentica da utente piuttosto che da amministratore diciamo che nel nostro caso semplice della nostra applicazione web non vogliamo andare a fare discorsi troppo complicati dal punto di vista del meccanismo di autenticazione, autorizzazione eccetera a noi sostanzialmente interessa inserire un meccanismo che impedisca a chiunque senza alcun blocco di andare ad utilizzare l'applicazione e in particolare i suoi dati senza alcun tipo di verifica e quindi vogliamo sostanzialmente nel nostro caso realizzare un semplice sistema di autenticazione che di fatto poi coincide col meccanismo di autorizzazione perché chi è autenticato sostanzialmente è in grado di accedere alle risorse e tutte le risorse nel nostro caso che mettiamo a disposizione diciamo subito che realizzare un sistema di questo tipo è in generale complicato perché appunto sono sistemi complessi, è molto facile sbagliarsi poi magari abbiamo la necessità di interagire con sistemi di terze parti per esempio pensate quando arrivate su un sito web e vi dice vuoi entrare col tuo username e puzzle oppure usa google, usa facebook e così via quindi ci sono dei meccanismi di interazione eccetera che tra l'altro coinvolgono e anche pesantemente il lato server infatti andremo anche a lavorare un po' sul lato server per realizzare il nostro meccanismo e la raccomandazione che ci sentiamo di dare in questo corso che ovviamente non si focalizza su questo ma lo vuole trattare perlomeno in maniera diciamo almeno superficiale per consentirci appunto di realizzare qualcosa da cui si può iniziare a partire capire i concetti fondamentali che diciamo possiamo i meccanismi fondamentali che possiamo usare per impedire o diciamo gestire e controllare l'accesso alle API che forniscono i dati nella nostra applicazione e vogliamo nel caso diciamo reale vi consigliamo di comunque andare a consultare sempre esperti diciamo del dominio quindi di sicurezza che potreste anche essere diciamo voi che avete seguito dei corsi più approfonditi in questo settore che per esempio appunto corsi di sicurezza che sicuramente in qualche maniera tratteranno quanto meno delle problematiche relative alle applicazioni web brevemente un'introduzione a uno dei problemi fondamentali che abbiamo nelle applicazioni web che in parte dovreste già conoscere perché conoscete il protocollo HTTP e sapete che il protocollo HTTP è cosiddetto stateless senza stato ogni richiesta è indipendente dalle altre ed è diciamo a sé stante ma nel momento in cui facciamo richieste in sequenza vorremmo che queste fossero collegate in qualche maniera e il meccanismo della sessione è il meccanismo che ci consente di collegare insieme diverse richieste fatte in momenti successivi temporalmente successivi come funziona questo meccanismo? qualcuno deve mantenere dell'informazione di stato cioè deve esserci dell'informazione che va avanti e indietro in qualche maniera ed è verificata da una delle due entità che partecipano alla comunicazione così da avere appunto il collegamento tra le varie richieste HTTP l'esempio tipico è un client che si autentica quindi un browser che si autentica con un server il server stabilisce una sessione nella quale il client è considerato autenticato e tipicamente questo viene svolto tramite un identificativo il cosiddetto identificativo di sessione che viene fornito dal server che fa l'operazione di autenticazione e in generale questo è un identificativo random abbastanza lungo quindi con un certo numero di carattere difficile da indovinare che viene memorizzato sul client e che il client invierà in ogni richiesta per farsi riconoscere e il server manterrà nella lista delle sessioni attive così da poter riconoscere questo client come appunto le richieste di questo client come facenti parte di una certa sessione il modo con cui viene in pratica implementato questo meccanismo è diciamo l'utilizzo dei cookie i cookie sono un meccanismo che esiste da tantissimo tempo e quindi anche i browser più vecchi lo implementano e tra l'altro appunto l'atto browser è praticamente interamente gestito dal browser stesso quindi non c'è bisogno di scrivere codice addizionale usa fondamentalmente fondamentalmente gli due header HTTP particolari standardizzati uno è il set cookie quindi nel momento in cui il server decide di che vuole mandare un cookie al client usa il header set cookie e imposterà un nome uguale valore per esempio autenticazione uguale a questa stringa di caratteri a caso che però viene mantenuta sul server che serve a identificare la sessione e il browser nel momento in cui lo riceve lo memorizza nella locazione appositamente destinata per i cookie e tutte le volte che farà delle richieste verso il server che verso stesso indirizzo o meglio stesso hostname stessa porta invierà un header che si chiama cookie in tutte queste richieste in maniera che il server possa riconoscere che queste richieste appartengono appunto a quella sessione ci sono tutta una serie di properties dei cookie che non andiamo a vedere nel dettaglio richiameremo solamente quelle importanti che sono fondamentalmente l'http only di cui vi parleremo perché consigliamo appunto di utilizzarlo e poi anche il secure che ci dice di mandare solamente i cookie su connessioni sicure forza il browser a utilizzare i cookie solamente nel momento in cui questo può viaggiare su una connessione sicura la cosa interessante è che come dicevamo è tutto gestito dal browser i cookie sono automaticamente spediti dal browser in ogni richiesta che va verso un dominio e dominio e porta dominio nel senso di nome di dominio porta e percorso dal quale il cookie è stato settato e quindi al quale il cookie appartiene nel nostro caso setteremo un cookie sul percorso slash e quindi diciamo sarà disponibile per tutte qualsiasi pagina della nostra applicazione ma in realtà questo è il modo tradizionale di pensare siccome noi abbiamo diciamo un'applicazione che funziona client side di fatto tutte le richieste che andranno verso il server se usiamo il cookie avranno questo cookie essendo un cookie che identifica la sessione quindi identifica il fatto che un utente si è autenticato deve essere protetto adeguatamente perché chiunque sia in possesso di questo numero di questo valore che è rappresentato dall'identificativo di sessione è in grado di impersonare un client autenticato quindi noi diciamo per semplicità nei nostri esercizi non ci preoccupiamo di questo problema e facciamo funzionare tutti i nostri esempi per semplicità su HTTP ma nella realtà nel momento in cui mettete poi un'opera o un meccanismo di questo tipo dovete assicurarvi che l'identificativo di sessione vi agi sempre su connessioni cifrate per evitare che possa essere intercettato e quindi poi utilizzato per operazioni che l'utente non voleva compiere è possibile abilitare HTTPS nel nostro esempio in React c'è un'opzione da utilizzare ma ovviamente non avremo poi dei certificati per l'HTTPS che sono firmati da una certification authority quindi in pratica poi il browser ci darà un sacco di warning eccetera e tutto questo però non aggiunge niente diciamo dal punto di vista di quello che vogliamo apprendere per quanto riguarda il funzionamento di quello che stiamo discutendo in questa lezione per cui rimaniamo coscienti del fatto che dovremmo proteggerlo però in pratica non lo facciamo più che altro per un motivo esclusivamente di semplicità anche però nel momento in cui proteggiamo il nostro identificativo di sessione con la cifratura della connessione quindi rendendolo non intercettabile da chi eventualmente osservasse il flusso di comunicazione tra il client e il server quindi il browser e il nostro server web esistono tutta una serie di modi che diciamo possono andare a cercare di catturare questo genere di informazioni sensibili in un'applicazione web qui ne citiamo solamente due ma ne esistono svariati non vogliamo fare un corso su questi aspetti diciamo che nel momento in cui è necessario li citiamo soprattutto se sono relativamente facili per lo meno da intuire e cerchiamo quantomeno di dare delle linee guida per evitare la maggior parte dei problemi ma come detto prima nel caso sia necessario dovete rivolgervi a qualcuno diciamo che molto più esperto anche di noi delle questioni di sicurezza vi cito un paio di meccanismi che è interessante conoscere uno è il cosiddetto cross-site scripting x cross cross-site scripting che vuol dire che il codice javascript se ha acceso a questo session id potrebbe rubarcelo nel senso di inviarlo a qualcun altro che non desideriamo il quale poi può usarlo per impersonare appunto l'utente autenticato e questo può avvenire da codice sostanzialmente che magari carichiamo inadvertitamente oppure ci fanno caricare con qualche meccanismo di inganno o per qualche malfunzionamento della nostra applicazione dipende ma comunque il tutto si sostanzialmente traduce in codice javascript che va ad accedere e a tirare fuori dalla nostra applicazione mandandola a qualche entità a terza questa informazione che è critica potrebbe anche essere del codice che noi carichiamo volontariamente per esempio del codice malevolo presente in una libreria che viene utilizzata che utilizziamo e così via del codice che abbiamo trovato in giro abbiamo fatto copia e incolla senza magari fare troppa attenzione o studiarcelo con attenzione e magari ci crea questo problema un altro possibile problema che si può verificare è il cosiddetto cross-site request forgery cioè far fare al browser un'azione indesiderata dall'utente per esempio facendogli inviare una richiesta verso il server che non avrebbe diversamente inviato per esempio quando vi mandano un'email con del codice html che contiene un link magari sotto forma di forma per fare un post quindi fare azione anche più pericolosa oppure sotto forma di link semplice se magari qualcuno lato server ha implementato una get che ha degli effetti collaterali e così via voi cliccate avete magari il browser autenticato con la sessione sul sito di interesse diciamo di chi vi manda questo di chi predispone questo meccanismo e vi fa compiere a vostra insaputa delle operazioni che non desiderate e queste operazioni vengono compiute senza che lui abbia la necessità di rubare l'identificativo di sessione perché come abbiamo detto prima se per caso fosse nel cookie questo viene inviato automaticamente dal browser il browser viene chiesto di fare questa richiesta al server e lui vede che ha un cookie per quel dominio e quel percorso e invia il cookie e quindi la richiesta lato server web appare correttamente autorizzata chiaramente per ognuno di questi problemi che sono stati identificati è stata identificata anche una possibile soluzione di nuovo non è nostra intenzione qui andare a discutere tutte queste possibilità ci limitiamo visto che abbiamo menzionato due potenziali problemi a menzionare due possibili soluzioni la prima piuttosto drastica per il cross-site scripting javascript andare a rubarci dell'informazione facciamo in modo che queste non siano accessibili da javascript questa è una buona idea indipendentemente dal codice anche quello che avessimo scritto noi perché appunto poi magari carichiamo del codice che riteniamo sicuro che non lo è e così via e questo si può fare in modo relativamente facile nel momento in cui l'informazione di sessione la manteniamo nel cookie ed è per questo che l'abbiamo ripassato usando cookie con un attributo particolare che è il cosiddetto http only cioè non sono accessibili al codice javascript quindi non sono visibili al codice javascript e quindi per definizione il codice javascript indipendentemente da quale codice sia non può andare ad accedere a queste informazioni quindi si risolve diciamo sostanzialmente la radice il problema per il cross site request forgery che si verifica con il cookie sostanzialmente perché il cookie viene inviato automaticamente dal browser e quindi il cookie ci risolve un problema ma in realtà ce ne crea un altro dobbiamo fare in modo che il lato del server non diciamo si basi esclusivamente sul cookie per autenticare le richieste lato server e quindi dovremmo inventarci una maniera anzi meglio non inventarsi nulla ma trovare una maniera diciamo che è stata proposta dagli esperti per mitigare questo problema per esempio usando header addizionali derivati da qualche diciamo valore segreto conosciuto solamente per esempio il server che non possa essere riprodotto facilmente e aggiunti per esempio questa volta via javascript il cookie verrà spedito dal browser ma javascript aggiunge un header addizionale per esempio un'estensione x-qualcosa che sono gli header custom dell'applicazione come detto non inventiamoci nulla cerchiamo delle librerie ben fatte ben diciamo stabili e così via che ci aiutino in questo lavoro tra l'altro alcuni web framework non react purtroppo già offrono questo tipo di funzionalità e quindi se il framework le offre questo tipo di funzionalità ovviamente impariamole e usiamole e sempre richiediamo l'aiuto di esperti di sicurezza nel caso sia necessario ovviamente i cookie non sono l'unico modo che abbiamo per trasmettere dell'informazione abbiamo detto prima possiamo avere dei custom e http headers quindi scritti appositamente per la nostra applicazione quindi per esempio lato client via javascript possiamo inviare degli header addizionali nella richiesta http e lato server su un nodo o qualsiasi altro meccanismo di programmazione lato server saremo in grado di rilevare questi header addizionali possiamo usare parametri delle query e così via così come possiamo anche usare il body dei messaggi http quindi lato browser usiamo il javascript e lato server usiamo il codice specifico per andare ad analizzare questi header anche per lo storage nel momento in cui abbiamo dell'informazione a mantenere in maniera diciamo più o meno permanente non c'è solo lo storage ai cookie che è gestito interamente dal browser e per cui può contenere solo i cookie ma c'è in html5 la possibilità di avere acceso al cosiddetto local storage o session storage che viene resettato nel momento in cui includiamo il browser i valori che inseriamo qui dentro sono accessibili dal codice javascript ed hanno più o meno le stesse restrizioni ai cookie possono essere acceduti dal codice caricato solamente dalla stessa origin origin nel senso di quella che abbiamo visto in course quindi stesso schema http o https stesso dominio stessa porta quindi in questo senso sono accessibili in maniera diciamo ristretta al sito web che ci ha caricato anche il codice il codice javascript quindi ci sono come sempre approcci differenti a risolvere lo stesso problema ovviamente ognuno con i suoi vantaggi e svantaggi i cookie gestiti automaticamente dal browser possono essere protetti da codice javascript quindi indipendentemente dal livello diciamo di maliziosità se così possiamo dire del codice javascript sono invisibili quindi sono sicuri per definizione in questo senso si può dire che vengano spediti solamente sulla connessione sicura https quindi non è che ci sbagliamo programmando in javascript e li spediamo su una connessione non sicura perché il browser automaticamente lo impedisce per noi però anche non è possibile inserire da terze parti cioè devono essere impostati dallo stesso dominio porta sul quale vogliamo poi andarli ad utilizzare e poi sono esposti a quell'attacco di cui dicevamo prima il password request forge altri approcci ovviamente ci danno molto più flessibilità perché li programmiamo in javascript e ovviamente questo è flessibilità ma anche come dire responsabilità e poi dobbiamo immagazzinarli noi quindi usare local storage session storage eccetera e possono essere acceduti da codici javascript maliziosi qualcuno si studia il codice nella nostra applicazione e ci fa caricare qualcosa che poi va a rubarci questa informazione quindi fatta questa doverosa premessa di come funziona il meccanismo di autenticazione autorizzazione adesso concentriamoci su come far funzionare il meccanismo di autorizzazione che è poi quello che interessa a noi nelle nostre applicazioni web in questo corso e cioè sostanzialmente come facciamo a proteggere quelle API REST che abbiamo sviluppato nella precedente parte di corso e fare in modo che possano essere accedute solamente da chi ha il diritto di farlo intanto come sempre esistono diverse approcci a risolvere il problema uno è quello che sostanzialmente abbiamo visto che è quello delle sessioni con il server cosiddetto stateful che quindi mantiene informazione di sessione per esempio questo identificativo di sessione al quale collega informazioni di autorizzazione che quindi dicono fondamentalmente la principale informazione è qual è l'utente e collegato all'utente ci saranno le informazioni relative ai permessi che ha le autorizzazioni che ha per l'accesso esiste però anche un secondo approccio che faremo vedere e che citeremo cioè che utilizzeremo in questo corso che è quello del server cosiddetto stateless quindi il server una volta fornito un token diciamo una stringa che funziona da meccanismo di autenticazione firmata dal server come vedremo diciamo può dimenticarsi di averla data perché nel momento in cui arriverà la richiesta il client si incaricherà di mandare questa stringa speciale questo token e il server dovrà semplicemente verificare che la firma sia autentica e questo non richiede di mantenere informazione sul server andiamo a vedere un po' più nel dettaglio questi due approcci il primo è quello del server stateful quindi il server deve ricordarsi in maniera attiva tutti gli id di sessione che ha rilasciato quindi questi numeri rando che corrispondono agli id di sessione e a che utente li aveva collegati questo ha i suoi vantaggi perché l'informazione sta tutta sul server e non lascia mai il server e quindi non può essere alterata diciamo maliziosamente quindi l'utente A non può dire di essere l'utente B perché l'informazione sta sul server quindi lato client non serve a niente non c'è nulla da fare nel momento in cui arriva la richiesta dal client il server va a recuperare l'informazione associata a questo identificativo e fa tutte le operazioni che deve fare sulla base di cosa può fare l'utente associato a quell'identificativo ed ha la risposta ovviamente tutto ciò funziona bene nel momento in cui abbiamo un unico server almeno un unico database centralizzato che gestisce diciamo tutte queste richieste e quindi conosce gli identificativi di sessione con le informazioni collegate in particolare il nome dell'utente diciamo lo user id esiste la possibilità anche di avere un approccio di tipo stateless quindi non c'è questa informazione sul server diciamo che deve essere mantenuta ed è quello che vedremo in questo corso perché diciamo è la cosa più naturale da fare nel momento in cui avete delle API da proteggere perché in questa maniera basterà inviare un pezzettino di informazione addizionale oltre alla richiesta e il server potrà automaticamente andare a verificare se la richiesta è autorizzabile oppure no senza mantenere alcune informazioni relativa al fatto che l'utente sia stato autenticato e autorizzato quindi come funziona il meccanismo nel momento in cui facciamo l'autenticazione il server mette la firma su un payload quindi su dei dati che contengono l'informazione riguardante chi è l'utente che ha fatto la richiesta e che cosa può fare e anche quando poi scade l'autorizzazione quindi un tempo al quale scade il server invia questa informazione al client quindi firmata dal server stesso e il client la deve memorizzare quindi in questo funziona esattamente come i cookie e in effetti poi noi proporremmo vi proporremo di usare i cookie per memorizzare questa informazione nel momento in cui viene inviata la richiesta per una risorsa che ha bisogno di autorizzazione viene inviata anche questa informazione addizionale ricevuta all'inizio e il server deve semplicemente verificare la firma nel momento in cui ha verificato che la firma è valida estrae l'informazione e l'informazione è diciamo si può credere a questa informazione perché appunto è stata firmata in una maniera valida per il server e il client non ha potuto alterarlo quindi essendo che c'è stato firmato che era l'utente A il client non può scrivere di essere l'utente B l'utente amministratore e così via perché dovrebbe firmarla ma non ha le chiavi necessarie a fare questa operazione di firma tutto ciò funziona bene anzi al meglio nel momento in cui ci sono scenari più complicati in cui per esempio abbiamo più server che non sono in grado di condividere l'informazione di sessione magari server di terze parti e così via e inoltre è appunto è un meccanismo che funziona si adatta bene a queste REST API perché sostanzialmente all'interno diciamo della nostra API dobbiamo solamente andare a verificare la firma senza fare interazioni addizionali con un database con un server centrale che mantiene le informazioni di sessione e così via andiamo a vedere a livello pratico che cosa vi proponiamo di utilizzare quindi arriviamo al cosiddetto JSON Web Token un meccanismo per l'autorizzazione standardizzato peraltro come i cookie però questo è un altro contesto appunto standardizzato e in pratica un JVT quindi un JSON Web Token è un piccolo pezzo di informazione in formato JSON quindi un oggetto JSON che contiene per esempio user ID scadenze e cose di questo tipo è codificato in una stringa URL friendly quindi con dei caratteri fondamentalmente alfabetici numerici pochi simboli e che può contenere in principio qualsiasi cosa e poi noi vedremo che per i nostri scopi sostanzialmente inseriremo come abbiamo detto prima il nome utente la scadenza e così via può fare quindi diverse cose uno dei casi più comuni è usare questo payload per definire appunto una sessione e quindi dire qual è l'utente che ha fatto l'autenticazione e una scadenza ed eventualmente altre informazioni necessarie ebbene non eccedere con la quantità di informazioni inserite in questo payload perché come abbiamo visto prima poi questa informazione deve andare avanti indietro e non è un semplice identificativo di poche cifre diciamo così di una decina di cifre una ventina di cifre quindi difficile da indovinare che però non contiene alcuna informazione perché l'informazione è memorizzata lato server come invece succede sul server stateful qui l'informazione sta nel payload e quindi il token sarà piuttosto grande rispetto ad un semplice identificativo di sessione tradizionale nel momento in cui lo vogliamo usare quella sessione dicevamo ci serve come minimo un user id e poi un expiration timestamp cioè un momento nel quale il token scade qui vediamo un esempio questo è proprio diciamo come appare un jvt un token se voi andate su questo sito jvt.io mettete questa stringa e vedrete che c'è una prima parte di header che vi dice qual è l'algoritmo utilizzato per la firma eccetera il payload cioè quello che vogliamo memorizzare qui c'è scritto il nome diciamo il nome o user id dell'utente il momento in cui è stato creato eventualmente la scadenza o altre proprietà ci sono alcune proprietà standardizzate e altre che possiamo semplicemente definire noi e l'ultima parte è la signature quindi la firma che possiamo eventualmente verificare se conosciamo il valore che è stato utilizzato per la firma con lo specifico algoritmo di firma deciso nel header quindi come vedete è una stringa che fondamentalmente contiene lettere e numeri e due punti per separare le tre parti quali sono i vantaggi e i disvantaggi di utilizzare jvt per confermare la validità di un token jvt ci basta andare a verificare la firma quindi non c'è nulla da fare in aggiunta rispetto alla verifica della firma il server ha un modo di fare la verifica della firma basta è a posto poi può fidarsi dell'informazione contenuta nel payload quindi se c'è l'utente che dice di essere l'utente A può fare le azioni previste per l'utente A non è necessario mantenere questo token nella memoria del server o su nello storage e così via tra le varie richieste http come invece è necessario per fare per l'identificativo di sessione visto in precedenza perché quello definisce la sessione e a quello devono essere collegate le informazioni di sessione quindi sono due approcci differenti chiaramente questo può sembrare abbiamo detto i vantaggi quindi può sembrare che ci siano solo i vantaggi ma ci sono anche gli svantaggi per esempio una cosa che è difficile da fare è far scadere il token prima del tempo mentre con una sessione normale è facile nel senso che basta andare sul server a cancellare l'identificativo di sessione e questo non esiste più quando arriva qualcuno con un numero che non esiste non viene riconosciuto come sessione il server lo manderà via qui invece il token è valido perché chiunque verifichi la firma vede che è valido e quindi se non è passato il tempo della scadenza questo token continua a essere valido o cambiamo il meccanismo di firma quindi di fatto la chiave di firma e questo però fa fuori tutti i token quindi anche quelli di cioè di tutti gli utenti che hanno utilizzato il meccanismo jvt su quel server con quella chiave e non è quello che vogliamo nel momento in cui vogliamo far scadere un'unica sessione quindi un unico token oppure dobbiamo usare altri trucchi vari e quindi avere una lista di token in blacklist white list quindi non fornire più i servizi a tali token ma questo significa che torniamo al server di tipo stateful quindi che ha lo stato che deve mantenere questa lista che quindi diciamo un po' il contrario del motivo per cui è stato creato il jvt che è quello che non c'è bisogno di avere l'informazione sul server basta verificare la firma siccome è difficile farlo scadere quindi senza un meccanismo di tipo stateful è bene sempre mettere una scadenza all'interno del token e una scadenza che non sia troppo in là nel tempo e questo chiaramente fa sì che dopo un po' il token scada e nel momento in cui si vuole far durare una sessione di più vuol dire che deve esserci un meccanismo che si ricordi quando il token è ancora valido di andare a chiedere un nuovo token con una scadenza più avanti da utilizzare sostituzione del vecchio e così via quindi è una complicazione addizionale da questo punto di vista e quindi come sempre in tutte le soluzioni ci sono vantaggi e svantaggi come per tutti i token di autenticazione di sessione questo deve essere mantenuto segreto anche questo va fatto viaggiare su connessioni sicure perché chi se ne è in possesso chiaramente può operare con i diritti previsti dal payload del token stesso anche questo deve essere spedito con ogni richiesta fatta dal client browser al server e questo però ci va bene perché alla fine nell'API REST è sostanzialmente quello che vorremmo aggiungere un header addizionale con questa informazione e tutto il resto rimane inalterato e il server che riceve il token deve semplicemente validarne la firma ci sono diversi meccanismi di firma noi non vogliamo scendere troppo in questi dettagli ma vogliamo solo dire che appunto a seconda del tipo di applicazione con testo in cui vi trovate dovete valutare voi il caso e decidere quali sono gli algoritmi che fanno il caso vostro sono gli algoritmi basati su un singolo una singola chiave segreta che quindi conosce tutti questi hanno la chiave solamente sul server perché il client non deve poter modificare nulla però ci sono quelli con una singola chiave e quindi la chiave deve essere condivisa tra chi fa la firma iniziale e chi verifica la firma oppure ci sono i sistemi basati su chiave pubblica privata che quindi utilizzano la chiave privata per fare la firma e la chiave pubblica per la verifica così la chiave privata sta solo sul server che fa la firma chiaramente questo è utile nel caso in cui abbiamo più server e solo uno di questi fa la firma quindi nel momento in cui appunto abbiamo singola chiave dobbiamo fare attenzione ad avere una chiave sufficientemente lunga da proteggere bene e quindi chi fa la verifica che è sempre un server però deve essere ben protetto perché se qualcuno entra sul server che fa la verifica poi può anche creare dei nuovi token mentre qui nel caso di chiavi pubbliche e private la chiave pubblica la chiave privata scusate può essere tenuta solamente sul server diciamo che crea i token e poi questo server può pubblicare la chiave pubblica che quindi è inutile e non può essere utilizzata per firmare i token a tutti gli altri server che eventualmente hanno necessità di verificare i token quindi questo è uno scenario che va meglio nel momento in cui abbiamo più server indipendenti magari anche di terze parti con i quali non vogliamo condividere il meccanismo di generazione dei token o meglio la chiave per la generazione dei token vista la teoria adesso passiamo alla pratica vediamo come vi consigliamo di utilizzarlo quindi questo è un nostro consiglio quindi vi consigliamo prima di tutto visto che vogliamo fondamentalmente inserire un meccanismo nella nostra applicazione web dove l'utente possa autenticarsi e quindi operare da utente autenticato e quindi creare fondamentalmente una sessione vi suggeriamo di creare una pagina di login che diciamo raccoglie le usuali informazioni di autenticazione quindi username e password e poi invia una richiesta di tipo post http al server che fa ad authentication server che nel nostro caso sarà fondamentalmente l'express che gestisce anche l'api del rest per dare informazioni ai dati questo authentication server riceverà le informazioni username e password verificherà che siano valide e il browser riceverà nella risposta un token jvt firmato quindi dal server token valido e vi suggeriamo di farlo tornare indietro come un cookie così che risolviamo la radice il problema uno dei problemi più sentiti che è questo del cross-site scripting in javascript perché diventa con l'opzione http only invisibile al codice javascript quindi non accessibile dal javascript e pertanto non può essere rubato dal codice eventualmente malizioso il browser siccome lo usiamo nel cookie spedirà sempre il jvt nell'header http cookie a qualsiasi destinazione che sia nello stesso dominio porta e quindi incluse le nostre api che verranno fornite dallo stesso diciamo indirizzo che sostanzialmente ci ci fornisce l'autenticazione quindi questo vuol dire che dovremo avere l'authentication server tutte le nostre api sullo stesso username e porta quindi se necessario useremo un meccanismo del proxy perché il cookie ovviamente per definizione funziona solo in questa maniera infine questo implica anche che dobbiamo proteggersi contro il cross site request forgery perché è un problema fondamentalmente del cookie e vi suggeriamo di farlo usando una libreria standard se lo desiderate diciamo che nei nostri esempi per le nostre applicazioni non è così fondamentale perché a noi interessa dare un metodo per poter fare l'autenticazione del server e far vedere come questo può essere utilizzato per autorizzare le richieste l'api rest però chiaramente se vogliamo completare bene l'esempio possiamo includere anche questa funzionalità non è fondamentale e diciamo non la non pensiamo di richiederla diciamo in quello che è necessario conoscere al termine del corso vediamo la pratica sul client nella nostra applicazione dobbiamo includere una pagina di login la creiamo come il solito form quindi un form react come abbiamo imparato a fare al suo stato locale quindi il this state che contiene username e password che verranno poi inviati nel momento in cui abbiamo validato il form al server tramite una user login che quindi sarà un api lato client che andrà a fare una fetch con post metodo post eccetera spedendo username e password quindi nulla di nuovo da questo punto di vista normale componente react che implementa un form sul server c'è da lavorare un pochino di più quindi c'è da decidere prima di tutto una chiave e diciamo lunga sufficientemente e fare attenzione mi raccomando a mantenerla segreta adesso i nostri sono esempi giocattoli quindi la sicurezza nel nostro caso non ha particolare importanza però succede spesso di vedere che chi usa sistemi version control per esempio github si dimentica di mettere questa chiave da parte in un file da non mettere sul git e finisce per fare il commit e poi una volta che ne è stato fatto il commit quella chiave è nota a tutti quelli che hanno accesso al repository e non si può più cancellare perché i commit non si possono più cancellare quindi fate attenzione a non pubblicarla in maniera non dovuta quindi questa operazione è banale ma c'è sempre il rischio anche nelle operazioni banali decidiamo dove mantenere il token il json web token e noi raccomandiamo appunto di mantenerlo nel cookie vi faccio vedere un esempio di come gestirlo con il cookie lato client non dobbiamo fare più nulla perché se usiamo il cookie è gestito tutto del browser quindi noi abbiamo fatto il foro e spediamo username e password il resto sarà fatto automaticamente dal browser quindi lato client è molto semplice dobbiamo però lato server ricevere le credenziali username e password e quindi fornire il jvt come body della risposta o meglio se decidiamo come cookie in realtà come cookie e il body può anche diciamo essere nullo però diciamo come risposta dell'operazione autenticazione quindi potremmo aggiungere una root login nel nostro server express che fa questa verifica e manda indietro il jvt e poi su tutte le api che ci interessa proteggere dobbiamo verificare che sia presente il cookie con dentro il jvt e andare a verificarne la firma prima di mandare la risposta e tipicamente non ci mettiamo a farla a mano come avrete immaginato ma utilizziamo un middleware che lo fa automaticamente per noi quindi nel momento in cui diciamo di andare a fare la verifica tutte le root saranno protette perché tutti si aspetteranno di vedere questo cookie di cui dovremo fare la verifica come facciamo a livello pratico bene come sempre quando dovete fare qualcosa in javascript è molto probabile che ci sia qualcuno che l'ha già fatto e con una buona libreria esistono diverse librerie noi vi consigliamo queste due librerie expressjvt che è un middleware e che quindi è quello che va a fare appunto la verifica della firma del jvt nelle root che implementa l'api rest e poi una libreria per creare e manipolare i jvt quindi jsonwebtoken che si chiama esattamente jsonwebtoken e quindi che ci consente di codificare informazioni del payload in cui il formato stringa metter la firma eccetera andiamo a vedere in pratica come si fa cominciamo dal middleware il middleware diciamo si configura come molti altri middleware passando un oggetto di configurazione in cui dobbiamo fornire una proprietà che è il secret che è questa stringerando che funziona da chiave segreta una funzione che dice come andare a recuperare il token dalle richieste quindi fondamentalmente questa è una proprietà e per esempio il valore potrebbe essere questa semplicissima funzione che presa la richiesta come parametro estrae da rec i cookies e da cookies il cookie che si chiama come chiave token e così va a recuperare dalla richiesta il cookie e poi c'è un terzo parametro che diciamo non ci interessa in questo momento ma ci consente di fare ulteriori personalizzazioni al middleware come facciamo a proteggere l'api rest bene diciamo di usare il middleware app e express che abbiamo sempre chiamato app nei nostri esempi diciamo use questo jvt inizializzato in questa maniera e quindi get token rec cookies token e questo nome lo decidiamo noi ed è quello in cui inseriremo come valore il valore del jvt se facciamo questa operazione nel momento in cui facciamo use tutto il resto dell'applicazione quindi tutte le route scritte dopo questo use saranno protette dal jvt quindi è come se avessimo messo jvt per ognuna di queste e quindi jvt ovviamente si preoccuperà di andare a fare la verifica unica accortezza siccome abbiamo deciso di usare i cookies dobbiamo anche includere un modulo apposta un altro middleware di node che va a fare parsing dei cookies quindi in grado di fornirci l'oggetto cookies come proprietà del rec nel momento in cui riceve una richiesta http altrimenti questo non avremmo a disposizione un po' come aggiungiamo il json parser per poter avere diciamo direttamente accesso all'oggetto javascript ricostruito nel momento in cui arriva un body con content type json come gestiamo le richieste non autorizzate bene basta sapere come funziona il middleware il middleware lancia un'eccezione se la richiesta che arriva non è autorizzata noi possiamo diciamo intercettarla fornendo una funzione middleware fatta da noi quindi una cosa molto semplice e che prendi quattro i paramet e va a vedere se hername un'autorized è stata generata dal nostro jvt e quindi decideremo di gestire la risposta come meglio che diamo che sono 401 non autorizzato veniamo ora al json web token quindi la libreria che ci consente di creare il jvt e di firmarlo eccetera quindi il metodo più importante è il sign al cui diamo il payload che sarà per esempio l'oggetto che contiene il nome o l'usure id dell'utente che è quello che andrà avanti e indietro il risultato dell'operazione di firma è quello che andrà avanti e indietro tra il client e il server o meglio scusate andrà dal server al client la prima volta che viene impostato e poi sempre dal client al server ogni volta che viene fatta la richiesta http perché abbiamo deciso di usarla appunto col cookie e quindi spedito automaticamente dobbiamo dire qual è la chiave segreta per fare l'operazione in firma poi ci sono eventuali opzioni che in particolare sottolineiamo questa expire scene che è quella che ci serve a farlo scadere dopo un certo periodo di tempo numero di secondi dopodiché il token scade e poi tutta una serie di altre opzioni che potete andarvi a verificare sui manuali in algoritmo da utilizzare eccetera esistono altri metodi ma non sono utilizzati direttamente da quel middleware che abbiamo visto prima quindi per esempio il metodo per fare la verifica che ovviamente viene usato da quel middleware mettiamo in pratica ovviamente facciamo i nostri import quindi jvt è il middleware json web token è appunto la libreria per fare la firma dobbiamo decidere un secret qui l'abbiamo scritto così e ovviamente questo non è più segreto però non mettetelo su git o meglio mettetelo perché poi l'applicazione non funziona quando ce l'ho consegnata però diciamo nelle applicazioni reali fate attenzione a non distribuirla perché ovviamente è un'informazione che deve rimanere riservata all'interno del server e poi ci scriviamo la nostra route per fare login quindi post api login che per prima cosa andrà a verificare se quello che viene ricevuto body username body password ovviamente qui utilizziamo di avere diciamo tutto necessario per fare la decodifica del body quindi che so se arriva in json di aver tutto diciamo predisposto a gestire dei body json la risposta di questa operazione c'è chi usa password che probabilmente va a interrogare il database quindi per questo che l'abbiamo messa su DAO se sarà sincrona come operazione e nel momento in cui è successo quindi nel ramo den ci fornirà qualcosa in questo caso previsto che sia lo user id che prendiamo e inseriamo nel payload da firmare come unica informazione jvt secret che è quello che abbiamo visto prima quindi la chiave e il tempo di scadenza e mandiamo il tutto indietro in un cookie che decidiamo di chiamarlo token così perché ci andava di chiamarlo token avremmo potuto dare qualsiasi altro nome che deve essere solo unico per la nostra applicazione il token è ciò che è stato appunto creato quindi con la sequenza di caratteri che avete visto prima con due punti e mezzo per separare le tre parti eventualmente fornendo delle proprietà in particolare l'http only anche abbiamo detto di farlo appunto per evitare i problemi cross-site scripting e eventualmente potete impostare anche la scadenza per il cookie se necessario e ovviamente vi consiglio di farlo equivalente alla scadenza jvt nel momento nel momento in cui l'autenticazione non è successo bene mandiamo non autorizzato indietro al client e poi magari possiamo fare qualche finezza diciamo ci pratichiamo con le promise per esempio dare una risposta ritardata nel momento in cui arriva un username e password errate per evitare che ci sia qualcuno che in maniera automatica prova continuamente richiamare le nostre API per avere la risposta diciamo rapida e provare tante password per vedere se indovina qualche passo questo non è un meccanismo che ci protegge del tutto perché chiaramente ogni richiesta va per conto suo quindi di nuovo se avete necessità di avere sicurezza in questo senso chiaramente consultate di nuovo un esperto di sicurezza però qui per esempio vediamo come possiamo fare a ritardare una risposta quindi fondamentalmente passiamo alla catch una funzione che crea una nuova promise che verrà risolta dopo un certo periodo di tempo e nel momento in cui sarà risolta facciamo il den e effettivamente chiamiamo la funzione cioè verrà chiamata la funzione che ci interessa che quindi farà rest status end e manderà indietro il codice di errore HTTP 401 che è il non autorizzato ecco logout abbiamo detto che non è possibile far scadere un token GUT prima della scadenza quindi non è che questo risolve il problema in questo senso perché appunto non è possibile ma possiamo almeno far sparire l'informazione e l'informazione se la gestiamo in JavaScript per esempio in local storage potremmo andarla far sparire direttamente noi quindi con del codice nel momento in cui la gestiamo col cookie l'unica maniera se questo cookie non è accessibile del client come abbiamo fatto noi con HTTP only è quella di chiedere a un'apposita API lato server di farci scadere il cookie quindi chiamiamo logout prenderà il logout e ci farà scadere il cookie quindi dobbiamo dare ovviamente il nome del cookie e clear cookie manderà un header nella risposta che fondamentalmente ci fa scadere il cookie e quindi questo verrà fatto sparire del browser notate bene che se però qualcuno ci ruba il token prima della scadenza può ancora utilizzarlo perché questo token sarà riconosciuto dal server a meno di trucchi addizionali di cui avevamo parlato che però non vogliamo approfondire fino alla sua scadenza naturale a meno appunto di tutte quelle cose che abbiamo detto prima cambiare la chiave ma quindi vuol dire invalidare tutti i token ultimo punto molto brevemente abbiamo parlato di questa protezione cross-site request forgery siccome usiamo i cookie diciamo vogliamo dare almeno un'indicazione su come fare ma come dicevamo non è indispensabile per diciamo per superare il corso ovviamente in questo caso ci sono delle librerie a disposizione usate una libreria non inventatevi mai niente di nuovo in questo campo perché il rischio di fare pasticci è altissimo noi vi suggeriamo di usare questa libreria e sostanzialmente è tutta un'operazione da fare in parte lato server e in parte lato client perché si tratta di spedire un header addizionale questa volta fatto con javascript quindi carichiamo la libreria diciamo di usare il cookie come meccanismo anche questo ha bisogno di un segreto quindi qui ci baseremo su questo cookie che alla fine è poi il cookie che viaggia nell'archiesta cioè jvt avremo un api che fornisce il token all'applicazione quando ne ha bisogno quindi l'applicazione quando dovrà iniziare a fare le richieste che manda il cookie dovrà conoscere questo token csrf e questo si fa in maniera molto semplice appunto c'è fondamentalmente a disposizione questo questo metodo che nel momento in cui inseriamo di nuovo questo è un middleware questo csrf protection cioè csfr fondamentalmente che il csrf la libreria agisce da middleware la inseriamo come nella catena dei middleware nella root e quindi ci mette a disposizione dei metodi da richiamare su rack e noi rispondiamo per esempio nel body mandiamo questa informazione in json e tutte le api che dobbiamo proteggere tipicamente tutte quelle non get cioè tutte quelle che vanno a modificare lo stato del server devono essere modificate in maniera da richiamare questo middleware nella catena diciamo dei middleware prima di andare a fare le operazioni così che eventualmente possa fermare l'operazione se rileva qualcosa di non valido nell'applicazione dovremmo avere un api che ci consente di andare a caricare quell'url che abbiamo visto prima che ci dà il token che andremo a metterlo come risposta andiamo a prenderlo e impostarlo come informazione di stato condivisa nell'applicazione particolare utilizzata nell'api per andare a fare le richieste e quindi in tutte le diciamo le chiamate delle funzioni api che sono critiche quindi modificano lo stato del server dovremo andare a inserire il token e lo facciamo andando a prendere dallo stato react che è dove l'abbiamo salvato nel momento in cui l'abbiamo caricato dal server quindi lo passeremo come parametro quindi l'update exam nella sua implementazione in api lo prende come parametro e semplicemente lo va ad aggiungere come header addizionale alla richiesta quindi x x trattino quindi gli header custom dell'applicazione csrf token e mettiamo il valore quindi sostanzialmente abbiamo inserito il meccanismo del csr srf all'interno della nostra applicazione che come vedete è relativamente semplice non abbiamo nessuna pretesa di completezza e esaustività nel fare queste operazioni però così intanto ci impratichiamo con le operazioni diciamo sia lato client sia lato server nel momento in cui abbiamo necessità di usare librerie addizionali concludiamo con le solite raccomandazioni abbiamo ripetuto più volte questa lezione ma perché sono veramente critiche nel senso che noi abbiamo dato qui una indicazione di come riteniamo si possa fare in maniera abbastanza semplice in linea diciamo con tutto quello che abbiamo visto finora javascript json i nostri server express programmato in javascript middleware cookie eccetera per proteggere le api rest quindi mandare questo token aggiuntivo che di fatto non ci chiede di fare alcuna modifica alle nostre api rest se non quella di andare a scrivere di usare il middleware di verifica eventualmente csrf nel momento in cui dobbiamo andare a usare csrf e il middleware jvt nel momento in cui usiamo jvt però il problema dell'autenticazione è un problema complesso infatti i corsi di sicurezza chiaramente spendono molto tempo su questi problemi anche perché abbiamo citato la possibilità di autenticarsi con terze parti appunto google facebook o altri quindi i meccanismi nel momento in cui sono coinvolte terze parti sono ancora più complicati perché ci sono token che vanno viaggiano eccetera magari avete sentito parlare di wow 2 eccetera sono sempre basati su questi meccanismi di token e così via quindi è importante aver imparato che diciamo il meccanismo di autorizzazione anzi in questo caso richiede sostanzialmente l'utilizzo di un token però diciamo ci sono sempre tutta una serie di possibili attacchi e contromisure da dover gestire ci raccomandiamo solamente che non inventiate il vostro meccanismo perché pensate di sapere come si fa avete capito come si fa perché al 99,9% finirà che si sbaglia perché si prende si adatta del codice si modifica del codice poi ci sbagliamo ci dimentichiamo di un semplice pezzettino e rendiamo il tutto vulnerabile usate sistemi standardizzati librerie standardizzate affidabili ben testate e così via e consultate un esperto nel momento in cui dovete fare il deployment dell'applicazione nel mondo reale quindi con questo abbiamo concluso il discorso diciamo dell'autenticazione e come la vogliamo inserire all'interno delle nostre applicazioni web in particolare con un sistema che riteniamo adatte all'applicazione tipo single page come quelle di cui stiamo parlando all'interno del corso e quindi per ora per la sicurezza diciamo l'aggiunta di questa funzionalità terminiamo qui e abbiamo troverete sul github come sempre degli esempi in particolare quello del react scorso è stato modificato e pubblicato per implementare appunto questo meccanismo di autenticazione con il jvt grazie dell'attenzione di autenticazione